Io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino Giorgio, questa è Mammina e questo è Papino, Peppa Pig! Violetta! Papà, tu ci hai promesso che andavamo a vedere Violetta, è vero? Io mi ricordo, è vero che ce l'hai promesso? Tu ti ricordi sempre tutto, mannaccia capo tu, io mi avrei a Violetta, siamo arrivati e... 5 biglietti per Violetta, 235 euro pagati all'uscita, sono 47 euro a persona, no, 235 a persona, cool, speriamo che papà non sia una donna, mamma pig, ma letta questi biglietti, sono 235 euro a persona, la faccio lo c***o, vannaggia di c***o, non dici la c***o, vannaggia che la grandissima rama, S***o! S***o, vannaggia di c***o, vannaggia di c***o che la grandissima... S***o! Quitt, quitt, quitt!